Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapawe e oggi eccoci qui tornati su One Piece Treasure Cruise Questa volta per andare a vedere i nuovi Fortnite di Apu e Drake Allora ragazzi, ci tenevo particolarmente a farvi vedere questo Fortnite Perché voglio parlarvi anche di tutte le novità che sono state apportate con l'arrivo di questo Fortnite Primo fra tutti, la possibilità al 100% di droppare il personaggio a fine stage Quindi questa volta, mentre prima era randomico, poteva dropparvi anche un baule o dei soldi Adesso il drop dei boss sarà assicurato Sia il boss del quarto stage, quinto stage, sesto stage, dipende dal Fortnite Che il boss finale di fine livello sostanzialmente Quindi d'ora in poi non sarà più così difficile maxare di livello questi personaggi Ecco, un'altra modifica importante che è stata apportata è effettivamente il fatto che molti di questi Cioè, scusatemi, tutti i personaggi unici che verranno droppati da questi Fortnite Saranno maxati d'ora in poi a un milione di esperienza Quindi praticamente nulla Molti di questi tra l'altro sono anche molto buoni Per esempio, Apu ragazzi è un ottimo personaggio Conviene per tutti quelli che non avessero O comunque si sono un po' a corto di personaggi free spirit O comunque anche chi ne ha sostanzialmente potrebbe godere del possesso di un Apu ben piazzato Allora ragazzi, il team che vi ho portato Può essere tranquillamente cambiato in molti molti modi Io preferisco questo team perché mi garantisce un sacco di esperienza extra Nettuno per esempio, il vostro capitano Lo potete cambiare con Zoro Quick Quello del Fortnite che è appena uscito Quello da 10 e 20 stamina Quello Zoro vi garantirà praticamente lo stesso identico bonus di attacco Ma vi garantirà meno esperienza Per un guadagno però di più berry Quindi poi dipende anche molto da come vi volete fare il team Su che cosa contate Però sappiate che effettivamente è quello Zoro Quick Che vi darà lo stesso identico bonus di attacco Che vi dà anche Nettuno Ragazzi, Apu è un po' rognoso Un po' rognoso perché vi darà diversi buff E vi darà diversi debuff Oltretutto non potrete matchare orb Cioè rendere orb matching Potrete solamente cambiare i vostri orb E renderveli matching Quindi io qui ho sfruttato Caribou Per togliere Damage Tree Sold E l'Attack Up a Apu E poi ho sfruttato un po' di HP Cutter Sostanzialmente Mi sono portato dietro anche Luffy del Colosseo Luffy del Colosseo è utilissimo Perché praticamente come vedete Avrete quasi full matching orb Portando anche Sabo ragazzi Distruggerete completamente Apu Io non ho voluto utilizzare il mio Nettuno Proprio per farvi vedere che non è essenziale che ce l'abbiate Farlo così sarà veramente uno scherzo Naturalmente possono essere effettuate diverse sostituzioni Cioè per esempio Luffy Potete cambiarlo con Hawkins del Colosseo Eccetera eccetera Effettivamente ragazzi La special di Apu sarà veramente molto molto utile Boosterà i Free Spirit sia di attacco che di slot Quindi di orb Per un turno di 1.5 Fa entrambe le cose Quindi veramente molto buono Oltretutto avrà un cooldown abbastanza ridotto Una volta maxato Conterà ben 4 socket Quindi un ottimo personaggio Come abilità da capitano invece Duplica l'attacco dei Free Spirit Se effettueremo 3 perfect di seguito Ci darà 2.5 E se faremo 5 perfect Ci darà 3 per al nostro attacco dei Free Spirit Molto 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 buono ragazzi Più naturalmente per la sua special che per la sua cap Oltretutto ripeto Avendo 4 socket Può essere utile in diverse situazioni Poi molto probabilmente lo utilizzeremo nei nostri gameplay Per quanto riguarda Drake Non è altrettanto buono Però fa la sua sporca figura Riduce l'HP del 7% di tutti i nemici E boosta leggermente Il type effect Quindi gli attacchi normali Dei powerhouse Per un turno Non è assolutamente niente di speciale In quanto praticamente Il suo boost per i powerhouse Sarà di 1.25 Sarà più fastidioso che altro Però poi Insomma Se non avete altro boost Può essere Che ecco Possa risultare vi utile Invece la sua cap Boosta i powerhouse di 2.5 E cura la crew di 200 Alla fine del turno Questa ragazzi Invece è una buona Capitan ability Per chi non dovesse avere Un ottimo capitano powerhouse Magari uno appena iniziato Vuole un capitano powerhouse Questo può essere Per ora Un buon capitano powerhouse Ragazzi Noi ci ribechiamo Ad un prossimo video Grazie